Ragazzi, bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, oggi sono fuori, ancora fuori sede e cosa sta succedendo sui mercati? Tante cose stanno cambiando, ora questa fase di bassista delle scorsa settimana, un paio di giorni, ha creato non pochi danni da un punto di vista di analisi tech che è andata a toccare determinati livelli di supporto che sono comunque rilevanti abbastanza, sia per quanto riguarda i mercati criptovalute e bitcoin, sia per quanto riguarda i mercati azionari classici, in particolare Nasdaq che fa due giornate di flash crash incredibile, potentissime e, parlate bene, le più importanti dopo il covid. Dopo i mesi di marzo è stata la settimana con un flash crash così improvviso, un po' da spaventare, c'è da fare una serie di riflessioni sui mercati americani, lo faremo in alcuni video spedicati solo al mercato finanziario generale perché sto analizzando una serie di fattori che andremo anche a vedere, oggi ci focalizziamo invece come sempre sui grafici per andare a vedere quello che è successo da un punto di vista grafico di analisi tecnica e analisi ciclica e capire dove siamo diretti in questa settimana e se in effetti i mercati potrebbero anche decidere di recuperare. Abbiamo visto anche nella giornata di sabato un flash crash importante sui mercati delle criptovalute, comprese anche le altcoin, la DeFi è andata giù pesantissima con tutte le altcoin che erano salite tantissimo, che erano state un po' l'orgoglio e fiore all'occhiello di questi mesi, ma insomma Remi in barca ci sta anche perché le salite erano state notevoli quindi magari delle prese di profitto sono interessanti, però secondo me bisogna anche andare a guardare nel complesso che cosa è successo ragazzi perché è probabile che alcuni strumenti abbiano fatto anche dei massimi di periodi che magari avranno difficoltà nei prossimi mesi ad essere intaccati, mi riferisco chiaramente ad Ethereum ragazzi, ne aspettavo un po' di forza in più. Andiamo a vedere quindi i grafici, andiamo a spostarci sui grafici come sempre, ragazzi io vi saluto qui perché vi farò vedere solo il grafico in questo momento, noi ci vediamo nel prossimo video e come sempre vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto lasciate anche un pollice come sempre e poi cosa ne pensate? soprattutto avete gestito questa fase come? Fatto edging, venduto, short, chi di vuoi tira fuori dal sacco un bel coniglio. Ciao a tutti! Bene ragazzi, allora siamo davanti al grafico, vediamo subito Bitcoin, quello che è successo in questa settimana, questo è il grafico che stiamo seguendo ma prima volevo farvi vedere invece un altro grafico che è quello settimanale che utilizziamo per farvi capire anche come la settimana in questione è stata la peggiore, vedete, dopo il Covid, perché questa è una settimana su Bitcoin che ha fatto meno 12,37 e la precedente, quella insomma più pesante che era avvenuta a maggio aveva fatto meno 9,80, quindi questa è la peggiore fase ribassista dei mercati da dopo il Covid, quindi dopo questa fase importante che era avvenuta a marzo. E' anche vero ragazzi che solitamente come vedete diciamo nelle fasi passate insomma settimane di meno 20 per quanto riguarda Bitcoin sono abbastanza comuni, mentre da marzo in poi il mercato ci è mosso con una volatilità leggermente diversa e questo mi ha anche spinto a farvi quel discorso la scorsa settimana dove vi dicevo che in effetti il mercato con un ribasso del genere va preso in considerazione perché comunque è un ribasso non comune negli ultimi mesi e questo è assolutamente evidente. Quindi questa fase però vedete ancora una volta, poi ci sono sempre notizie positive, quindi bicchiere mezzo pieno, non ha toccato il trend settimanale, però è anche vero ragazzi che ha indicato che questa resistenza ormai veramente difficile, difficile perché tiene Bitcoin sotto da gennaio 2018 se non erro, quindi da qui vedete esatto febbraio del 2018 più o meno febbraio gennaio non viene rotta questa resistenza super barra di congestione di lunghissimo periodo ragazzi sarà la nostra il nostro obiettivo quindi sarà la resistenza da rompere e lì cambieranno tante tante cose però al momento cosa sta succedendo? Il mercato quasi sicuramente sta andando a fare una chiusura di un ciclo maggiore che è quasi certamente un ciclo di natura semestrale. Adesso vi faccio vedere il ritorno al grafico precedente, quello che guardiamo ogni lunedì per darvi un'indicazione generale anche del fatto che avevamo indicato queste giornate, la prima decada di settembre come delle fasi complesse non pensavo diciamo un po' così tanto complesse però probabilmente ragazzi da questo break a meno di recuperi veramente veloci e immediati di quota 11.000 dollari è possibile assistere ad una fase ulteriore di trading range con magari delle piccole oscillazioni anche forse sotto i presidenti minimi quelli fatti qualche giorno fa quanto meno fino a fine mese di settembre. Dovremmo diciamo controllarla questa cosa ragazzi perché quando c'è una close di un ciclo semestrale come quello attuale probabilmente il mercato può decidere anche di accelerare quindi di farlo prima questa chiusura. Allora vi faccio vedere intanto la struttura di questo ciclo che è fatta così ragazzi è una struttura in questo modo struttura ciclica abbastanza evidente mi aspettavo una fase di app qui il mercato l'ha fatta qui invece di farla in questa settimana ha tentato di fare un nuovo massimo però non c'è riuscito quindi in questo momento siamo nella fase di di chiusura di questo ciclo. Quali sono i livelli di supporto che il mercato può raggiungere e che possono creare appunto questo questa base per una ripartenza o per un rifiatamento di bitcoin? Questi prezzi che vedete quindi intorno ai 9.800-9.500 questa fase qui è tutta una fase di supporto del mercato perché la precedente fase è aria di trading range quindi da un punto di vista di price action il rientro in questa fase di oscillazione non è anomalo e tutto sommato ragazzi ci dà un'idea generale del fatto che il mercato abbia tentato un allungo non riuscito quindi fallito e gli orsi hanno preso nuovamente la loro forza hanno riportato il mercato in quello che era una super barra di congestione se ve la ricordate quella famosa barra di congestione che aveva i 10.500 come tappo perché vi parlo di un ciclo di natura semestrale ve lo faccio vedere anche qui sul mio indicatore RSI modificato vedete la forma della struttura di questo ciclo che secondo me è abbastanza chiara ora ragazzi se un semestrale ci chiude intorno ai 10.000 dollari per quanto riguarda bitcoin io direi che c'è andata bene perché l'ultimo annuale avete visto come ha chiuso a marzo però è anche vero un discorso che va fatto molti di voi mi hanno anche mandato dei messaggi mi hanno scritto dei commenti dove indicavano come il discorso del fatto che bitcoin non abbia superato la resistenza 12.100 ci porta anche la possibilità che questo mercato continui la sua fase di lateralità e questo è possibile quindi magari avere un ciclo annuale laterale se così fosse ragazzi è probabile che abbiamo fatto i massimi fino al prossimo anno che sono in questo caso appunto questi però ragazzi queste sono supposizioni di lunghissimo periodo che a me non piace fare come sapete perché le ritengo appunto delle idee campate in aria mentre è più oggettivo più corretto per un trader un analista analizzare i dati nel corso d'opera quindi mentre si va a comporre la scacchiere il gioco che il mercato sta facendo in questo momento il mercato ci ha detto sono in una fase di chiusura del ciclo semestrale l'eventuale ripartenza futura di questo ciclo quindi da qui in poi che potrebbe essere fatta a giorni bisogna stare in questo momento sul mercato e ritradare le ripartenze di bitcoin long praticamente sempre ragazzi proteggendole con gli stop per riuscire se il mercato ci viene contro questo è il concetto quindi dovete essere dei trader se volete salire su questo carro in questo momento dovete fare riferimento a delle tecniche di trading che vi consentano di poter fare operazioni long e proteggervi subito ok vediamo anche Ethereum ragazzi perché anche Ethereum ha fatto un ribasso notevole si è insomma andata a concludere la sua fase rialzista che era molto ampia molto più forte di bitcoin ed Ethereum si è riportato al di sotto del famoso supporto prima resistenza a 365 quindi è ritornato anche lui a fare questa struttura però vedete ragazzi la differenza qual è rispetto a Bitcoin che il livello della precedente oscillazione di Ethereum non è stato raggiunto perché Ethereum doveva ritornare in realtà sotto i 285 invece è rimasto sopra questo secondo me è una notizia positiva intanto c'è in ogni caso il trend che viene mantenuto al rialzo questa è una clause semestrale anche per quanto riguarda la regina delle cripto avevamo indicato una fase da un punto di vista di giorni questa qui intorno al 25 di settembre mancherebbero 15 giorni io penso che il mercato possa continuare una fase di oscillazione e poi andare a chiudere questo ciclo in questi giorni quindi da qui in poi flash crash potrebbero essere considerati anche come fasi di chiusura faccio riferimento a flash crash per esempio che vadano a toccare questo livello di supporto quindi 285 per quanto riguarda Ethereum che adesso diviene un livello di supporto mentre il 365 si ritrasforma in resistenza come ben sapete e quindi al di sopra di 365 il mercato potrebbe decidere di ripartire oppure fare la famosa barra di congestione quindi respira e poi aspetta i tempi giusti magari con un'accelerazione anche dei mercati americani che magari riprendono anche loro questa fase perché anche i mercati americani sono in una fase di chiusura ciclica importante ma magari ne parliamo nel prossimo video ragazzi e poi appunto ripartire a cavallo insomma per fare il famoso test eventuale del livello di resistenza in questo caso 505 allora Ethereum ragazzi io me lo aspettavo all'interno di questa fascia vedete io vi avevo detto arriverà qui può arrivare qui in realtà non c'è arrivato per pochissimi dollari si è fermato leggermente qui e poi ha fatto questa fase di bassista in questo momento vi dico già da subito che tutti i miei portafogli il Crypto4Pump, il Crypto Horse Race di cui vi avevo parlato nelle scorse settimane sono andati tutti in trailing stop qui adesso siamo in attesa di rientrare su alcuni titoli proprio con quel tipo di portafoglio ragazzi alcuni titoli che sono in attesa appunto di rientrare tra cui uno di questi è Link vi faccio vedere il grafico di Link perché volevo farvi capire come questa Crypto che aveva fatto benissimo fino alla metà di agosto ha iniziato una fase ribassista che va assolutamente considerata è un ABC questo è chiaro ragazzi ok ma non si è ancora concluso quindi molti di voi magari mi fanno domande mi sono arrivate le mail compro Link in questo momento ragazzi sì sicuramente i prezzi sono molto più bassi di prima mi parlate sempre della famosa frase compro sconto più Link sono in attesa non sono rientrato in questa fase attenderò un'eventuale inversione di trend su questa criptovaluta però in questo momento inversione non c'è perché il trend lo vedete è ribassista nel breve e va considerato ragazzi anche perché sono coin che se andiamo contro trend poi vi fanno una stoccata di meno 70 meno 80 e ristate lì al palo quindi o sapete quello che state facendo oppure insomma diventa rischioso un po' il tutto qual è il livello di supporto? l'ho già toccato che è esattamente questo quindi precedente massimo vedete rientrata e poi l'aria in mezzo a queste due medie mobili che io utilizzo sempre per fare le mie considerazioni come fase diciamo di possibile ringresso nel strumento in questo caso vedete il trend anche di Link è stato fortemente ribassista perché sembra palesemente lo scoppio di una bolla rientrata però è anche vero che Link non è rientrata non è scesa poi così tanto sì si è dimezzato più o meno il valore però rispetto insomma a quello che siamo abituati a vedere anche su altre coin non è poi crollata così tanto su un'eventuale fase di crollo veramente quindi di panico generalizzato potremmo in effetti assistere ad un livello di Link che vada a fare il pullback dei 4 dollari 5 dollari 4,90 perché era la precedente area vedete di oscillazione dove il mercato ha tenuto questa coin ferma per quasi un anno quindi nulla vieta di assistere a una cosa del genere so che sto dicendo una cosa di rompente diciamo un po' anche fastidiosa probabilmente per chi di voi magari è ancora dentro questa coin però ragazzi da un punto di vista di AT di analisi tecnica questa cosa è possibile tranquillamente ed è un atteggiamento che potrebbe anche avvenire quindi ricordatevi sempre che se andate a fare operazioni contro trend i rischi di assistere a cose del genere aumentano se dovesse effettivamente Link andare a toccare i 6 dollari in questa fascia di prezzo praticamente ragazzi qui va bene allora io potrò mancari decidere anche di valutare un rientro più veloce con più tecniche di trading al momento quindi o inverte il trend oppure si riposiziona qui tutte le coin sono in una situazione del genere ci sono grandi opportunità come sempre in queste fasi di ribasso e ci sono anche grandi rischi bisogna saperle cogliere allora ragazzi per oggi è tutto io vi auguro un buon inizio settimana fatemi sapere cosa ne pensate di tutte queste informazioni sono veramente tantissime noi ci rivediamo nel prossimo video ciao a tutti